Ariola Trini è una ragazza che ha una passione grandissima per lo sport, ma che porta avanti in realtà tante cose insieme. Sette volte campionesta europea, Ariola Trini, 31 anni, ha la terza partecipazione alla competizione continentale, a Dublino ha già conquistato un oro, un argento e un bronzo, contribuendo a far volare l'Italia al secondo posto nel medagliere. Diciamo che è una grandissima nazionale, per la prima volta così numerosa, 28 atleti e tutti stiamo dando il massimo, quindi belle soddisfazioni. Non mi accontento mai di fare una sola cosa, mi piace lavorare, mi piace portare avanti tante passioni e la passione più grande che io ho è lo sport. E' bellissimo riuscire sempre a partecipare a queste manifestazioni e anche a fermarsi, quindi è bello. E' bellissimo riuscire sempre a partecipare a queste manifestazioni e anche a fermarsi, quindi è bello.